e si va al volo con questo minibas che ci colpa al volo è un po' di oggi, durato 3 minuti e eccolo qua il famoso duomo del Vito sembra una cosa, sembra un cofanetto di caramello scorgari ma noi non siamo venuti qua, cioè adesso si siamo venuti a fare i turisti ma prima dobbiamo andare a mangiare perché abbiamo prenotato il ristorante e dobbiamo incontrare anche due amiche comunque dopo veniamo qua e si fa i turisti e qua si mangia aspettiamo che uno dei altri due poi si mangia comunque qui, tadaaa, completo e noi eravamo prenotato per notarvi tutti, ecco l'una, ecco l'ottia e io, il menù ci deve mangiare grazie 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 ciao 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 ecco il duomo che bestia è, che bella bestia non c'è più, non c'è più non c'è più non c'è più è più grande non c'è più E' un po' di pizzeria Grazie a tutti.